Un tubo a raggi catodici è un tubo di vetro dal quale la maggior parte dell'aria è stata tolta. Quando le placche di metallo che si trovano dentro al tubo di vetro vengono collegate ad un generatore, dal catodo carico negativamente partono dei raggi. Questi raggi viaggiano verso l'anodo che è carico positivamente. Se l'anodo viene bucato, questi raggi arrivano su uno schermo fluorescente che si illumina quando viene raggiunto dai raggi che partono dal catodo. Così funzionavano i tubi catodici delle vecchie TV. Se applichiamo un campo elettrico, i raggi vengono deviati poiché sono formati da particelle cariche negativamente. Perciò i raggi catodici sono formati da particelle cariche negativamente. Noi oggi li chiamiamo elettroni. Un corpo carico che si muove forma un campo magnetico. Ora, se avviciniamo un campo magnetico ai raggi catodici, questi vengono deflessi. E se invertiamo la polarità del campo magnetico, si inverte anche la direzione con cui questi raggi vengono deflessi. Nel 1897, J.J. Thomson determinò il rapporto tra massa e carica per l'elettrone. Egli aggiustò il campo elettrico in modo tale che l'angolo di deflessione dei raggi catodici dovuto a tale campo fosse uguale all'angolo di deflessione dovuto al campo magnetico. In questo modo, usando un'equazione che vedremo, determina il rapporto. Utilizzando la seguente equazione, calcolo il rapporto tra carica e massa. Moltiplichiamo il campo elettrico per l'angolo di deflessione dovuto al campo elettrico fratto il campo magnetico al quadrato per la distanza percorsa dai raggi catodici. In questo modo troviamo un rapporto pari a 1,76 per 10 all'ottava coulomb per grammo.